La gazzetta dello sport apre celebrando la netta vittoria rossonera con il Ren. Milan si vola, con Loftus Cic in primo piano grazie alla sua doppietta decisiva per il 3-0 finale. Di spalla a sinistra c'è invece, Inter caccia al più 10 minuti, con il, mini turnover per la maxi fuga sulla Juve, stasera nel match con la Salernitana. A destra, invece, Mbappe al Real con il fotomontaggio del fuoriclasse francese con la maglia dei Blancos. E la possibile conseguenza pericolosa per i nostri club, occhio, il PSG compra da noi. Lautaro, Leao e Osimen nel mirino dei francesi. Continuando troviamo, Lukaku c'è, con l'esultanza del belga che, salva la Roma in Olanda e pensa al suo Congo. Infine, Lotito, Lazio, ti farò diventare più grande. Sul Corriere dello Sport, si esalta invece la vittoria giallorossa. Quanto sei bello Rom, il titolo in prima pagina con l'esultanza di Lukaku col Feyenoord per il gol dell'1-1. E ancora, Loftus Cic da applausi, il Milan vede gli ottavi. Proseguendo troviamo, Lautaro Turam, c'è la missione 10-0. Poi in taglio basso, Napoli, finalmente Osimen, con il ritorno del Nigeriano dalla Coppa d'Africa. Infine, Mbappé fa felice Ancelotti. Infine tutto sport che apre con, Rivoluzione in 10 nomi. Parliamo del, piano Champions della Juve con tre calciatori in prima pagina. Zaccagni, Kukmeiners e Gudmundsson. In taglio alto, la felicità del toro si chiama Europa. Di spalla, Mbappé, PSG Adie, Osimen a Parigi, Loftus Leao, che Milan, Ren Travolto, 3-0, la Roma ritrova Lukaku, Veleno Mu, e, Pirlo e Samp, io credo in voi. Queste ultime sono le parole di Roberto Mancini, intervenuto in esclusiva al quotidiano. All'estero l'argomento principale è semplice da reperire. È deciso. Ti lascio, il virgolettato ipotetico, ma neanche troppo che Kailayan Mbappé rivolge al PSG dopo appunto la decisione di non rinnovare il contratto col suo club e andare via a parametro zero. Questo in prima pagina sull'equip. Ma come ovvio che sia l'argomento è lo stesso, di conseguenza, anche in Spagna, se va, se viene, è invece il titolo di, marca. Ovvero va via dal PSG, viene al Real Madrid, che, ultima già i dettagli per chiudere l'operazione. Play-off Europa League, Milan-Ren 3-0. Loftus Cicchi e Leao dominano a San Siro. Serata di gala per il Milan di Pioli che nell'andata del play-off di Europa League ha battuto 3-0 il Rena San Siro. Dopo la traversa colpita da Leao in apertura del match, i rossoneri hanno mantenuto il controllo del gioco, sbloccando la partita al 32 con un colpo di testa di Loftus Cicchi. L'inglese si è ripetuto, sempre di testa, a inizio ripresa sugli sviluppi di corner, 47, e 6 minuti più tardi, è stato Leao, 53, a calare il Tris, in collaborazione con Hernandez. Gara di ritorno il 22 febbraio a Lenn. Europa League, Feyenoord-Roma 1-1, Lukaku risponde a Pe. Prezioso pareggio per 1-1 della Roma a Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata dei play-off di Europa League, tra una settimana all'Olimpico e il decisivo match di ritorno. La squadra giallorossa gioca meglio degli olandesi nel primo tempo, colpisce una traversa con Paredes ma viene beffata nel recupero da un colpo di testa di Paixão. Nella ripresa ci pensa sempre di testa Lukaku a trovare il meritato pareggio, 67, mentre al 91 Svilar è salvato dal palo sulla punizione di Ivan Husek. Mbappé lascerà il PSG ma il Real Madrid non farà follie. Perez ha fissato due paletti. Adesso però la politica del Real Madrid è cambiata. Nel frattempo sono arrivati calciatori come Camavinga, Chouameni e Bellingham che hanno decisamente migliorato e ringiovanito la rosa. E Florentino Perez, scrive a S, non ha intenzione in questa occasione di fare follie per Mbappé. Il Real Madrid ha un tetto in gaggi che rispetterà ed è rappresentato dallo stipendio da 12 milioni a stagione di Jude Bellingham. Non solo, Mbappé se vorrà il Real Madrid dovrà condividere col club spagnolo gli introiti per i diritti d'immagine. De Zerbi accoglie Valentin Barco, dopo il preolimpico, L argentino è arrivato a Brighton. Dopo aver partecipato al preolimpico con la sua argentina, Valentin Barco è pronto a dare il via alla sua nuova esperienza in Premier League. L'esterno sinistro classe 2004, fa sapere il Brighton tramite i propri canali social, è infatti arrivato nel sud dell'Inghilterra nella giornata di oggi per le prime foto di rito e la visita al centro sportivo dei Seagulls. Il club di Roberto De Zerbi nei giorni scorsi ha pagato la clausola rescissoria del giocatore al Boca Juniors, ovvero 10 milioni di dollari, lasciando anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita al club argentino. Per Barco, invece, ecco un contratto valido fino al 2028. Crystal Palace, Hodgson ricoverato in ospedale. Il club, condizioni stabili. Arrivano ulteriori notizie sulle condizioni di Roy Hodgson. Il tecnico del Crystal Palace ha avuto in mattinata un malore, come comunicato dal club. Sono arrivati ora gli aggiornamenti, tramite gli account ufficiali dei londinesi. In seguito alla notizia che Roy Hodgson, ha avuto un malore durante l'allenamento odierno, possiamo confermare che ora è stabile ed è attualmente sottoposto ad accertamenti in ospedale. Manchester United, 10-Hug. Buono non è abbastanza, cerchiamo sempre il meglio. Ineos lavora per assumere nuovo staff, direttore sportivo e altro ancora, sono molto felice di questo. Al Manchester United non puoi fare tutto da solo, e quindi hai bisogno di persone molto brave intorno a te. Sono felice, ma un club come questo ne ha assolutamente bisogno. Le nuove nomine potrebbero aiutarci a svoltare? Siamo un club, non un reparto isolato. Ma per alzare l'umore del club, la squadra deve fare il meglio che puoi ottenere i risultati giusti. Il mercato, ora che la finestra di gennaio è chiusa confermo che stiamo lavorando sui piani per l'estate. Sospiro di sollievo per Brian Diaz, escluse lesioni, potrebbe giocare col raio. Secondo le informazioni riportate da Marca, che cita una fonte vicina al club madrileno, la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto stamattina l'ex trequartista del Milan ha dato esito negativo. Gli esami effettuati hanno infatti confermato le buone sensazioni dello calciatore e i risultati dei primi accertamenti effettuati dallo staff medico. Nessuna lesione, nessun infortunio al polpaccio o al soleo. Bayern Monaco, Kane, finché non saremo fuori da questa situazione, non ci arrenderemo. Era lo spauracchio di un popolo intero, anche alla luce delle ultime superbe prestazioni con la maglia dell'Inghilterra contro l'Italia, ma la sua ultima visita romana non gli ha dato le soddisfazioni che avrebbe voluto. Ferri Kane ha parlato a TNT Sports dopo il K.O. rimediato a Roma contro la Lazio, che dà seguito alla sconfitta rimediata contro il Bayern Leverkusen di Xavi Alonso. Settimana davvero dura. Nel primo tempo abbiamo iniziato bene e abbiamo avuto occasioni chiare, una anche per me. In queste partite, sono momenti importanti. Flick entra nella scuderia di Xavi. Può essere la chiave per approdare al Barcellona. Anzi Flick, si dirige a grandi passi verso la panchina del Barcellona. L'ultima novità potrebbe giocare definitivamente a favore del tecnico tedesco. Secondo le informazioni riportate da Fiatletic, l'ex Bayern è passato nella scuderia del superagente Pini Xavi, molto vicino a John Laporta e artefice del trasferimento di Robert Lewandowski nell'estate del 2022.